Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video! Lui è lì sullo sfondo, è malato e quindi non parteciperà, è solo lì sullo sfondo perché è malato e non si vuole più alzare da lì è tipo in quella posizione di bozzolo da oggi pomeriggio, no dall'ora di pranzo forse allora e quindi iscrivetevi al canale, se lo dico io stavolta, fa niente amore non ti preoccupare allora siamo qui per un nuovo format, cioè io praticamente faccio un format a settimana poi forse non li continuo, forse sì, non lo so, però questo era divertente, volevo provare, non lo so, l'ho visto fare mi sembrava divertente, ovviamente l'ho fatto a modo mio però perché chi se ne frega di come lo fanno gli altri e quindi il nuovo format come ti ho letto dal titolo è una 10 euro challenge ho preso 10 euro, che poi non ho preso niente perché l'ho comprato online, le cose, quindi non avevo i 10 euro di carta e ho fatto shopping su Amazon, 10 euro challenge su Amazon però, visto che a voi vi piacciono solo i video dove si mangia, io che cosa ho fatto? ho fatto shopping su Amazon, ma ho comprato solo cibo va bene, ok, allora ho comprato del cibo su Amazon e questi sono i pacchetti che mi sono arrivati con 10 euro su Amazon si possono comprare un sacco di cose ora vi dico anche quante cose, no non ve lo dico, le vediamo dopo allora, cominciamo a spacchettare tutte queste cose hanno diviso l'ordine in due pacchetti non so perché, le ho ordinate contemporaneamente le cose ma va bene, questi sono i misteri di Amazon l'importante è che arrivi tutto subito dove si apre questo gentil pacchetto? eccolo qua, abbiamo prima quello piccolo cosa ci sarà in questo piccolo pacchetto? tra l'altro ho preso tutte cose che non avevo mai assaggiato perché così magari le assaggiamo anche insieme prima cosa che ho preso e non avevo mai assaggiato non so perché non l'ho mai assaggiata perché detto così sembra buono allora, infusi gustosi 100% naturali con frutta secca bonomelli questo è mandorla e caramello cioè, ma quanto sembra buono detto così mandorla con note di caramello vi dico anche i prezzi di queste cose perché non so se costano meno che al supermercato potrebbero allora, questo costava come faccio a guardare i prezzi di quello che ho comprato? ah, devo ricliccare ogni cosa che noia allora, costava 1,89 euro ma attenzione perché quando andrete a fare i conti direte ehi, ma stai barando perché tu hai speso più di 10 euro no? perché di alcune cose se compri più di 4 pezzi di cibo cioè, non di 4 pezzi della stessa cosa ma proprio di cibo su Amazon ti applicano uno sconto del 5% quindi quando sono andata a fare i conti in realtà era meno e ho dovuto anche aggiungere una cosa in pratica perché sennò era troppo meno di 10 euro e invece così ho speso 10 euro mi pare tondi tondi se non erro una cosa del genere insomma vediamo se me lo dice quanto ho speso ma perché? ma perché è così tutto complicato in questa vita? non me lo dice quanto ho speso? vabbè raga fidatevi ho speso 10 euro forse anche un centesimo in meno poi aspettate addirittura bottiglia di vetro bottiglia di vetro quanta plastica però mamma mia la salsa ciliegini barilla perché hai comprato la salsa ciliegini? non lo so perché dovevo rientrare i 10 euro ho cercato di comprare più cose possibili la salsa ciliegini 100% ingredienti italiani barilla questa ce l'assaggiamo interessante vabbè che sarà pomodoro ciliegino però e qui c'è l'ultima cosa ah buona pure questa allora questa è sempre una tisana bonomelli infusi gustosi però nocciola con note di vaniglia queste secondo me so tanta roba tantissima prezzi allora la tisana la nocciola costa sempre 1,89 euro poi da scontare e la salsa ciliegini costa 1,69 euro allora va bene cari vi piace? vi piace questo format? scrivetemi nei commenti se questo format vi piace che lo posso fare da altre parti tipo 10 euro challenge all'euro spin all'idol o cose simili oppure con oggetti che non siano cibo ma tanto io lo so che guardate solo i video di cibo perché vi piacciono quindi lo farò con il cibo allora secondo pacco che è decisamente più grande vediamo se cacciamo qualcosa da assaggiare questo l'ho comprata perché io non l'avevo mai vista al supermercato ditemi se l'avete vista perché sarà che io ci ho vado poco al supermercato ma non l'avevo mai vista fusilli al bronzo barilla io l'avevo mai visti l'unico problema la fregatura è che il packaging sembra simile ma in realtà questo è da 400 grammi non è mezzo chilo di pasta è meno non so perché in realtà l'ho presa perché così la possiamo assaggiare insieme a questa eh che cambia lavorazione grezza tra milati al bronzo tra l'altro mi sembrano tutti rotti fanno un rumore di pasta rotta non lo so cottura 11 minuti ma grani pregiati 100% coltivati in Italia quindi non dovrebbe costare di più quanto l'ho pagata no non è vero costarà di più perché tra l'altro è meno pasta quindi che furbacchioni quelli di barilla allora questa costava però non l'avevo mai vista al supermercato è per quello che l'ho comprata 1 euro e 35 che è uno sproposito per 4 etti di pasta ma va bene poi cos'è questo ah raga allora ma che cosa hai comprato cioè 10 euro challenge è ho capito ma io questa è una cosa che mangio di solito mi piace ho trovato i filetti di sgombro a 99 centesimi ma che fai mi compri ma non so come so in olio di semi a 99 centesimi io tra l'altro di solito li mangio li scolo poi li metto in padella che fanno un po' di crosticino con la salsa di soia un goccino di salsa di soia poca poca perché sennò diventano salati e vengono buonissimi tipo un po' caramellati io è una cosa che mangio di solito non saranno buoni come quelli che mi ha mandato la ragazza che mi ha mandato la box con i gioielli non so se vi ricordate dentro c'erano anche quei filetti di sgombro epici questi faranno schifo in confronto ma boh 99 centesimi costano di più l'eurospin proviamoli poi ok vi ricordate quando ho detto che mi mancava una cosa per arrivare a 10 euro ok solo che mi mancavano anche solo poco più di 50 centesimi per arrivare a 10 euro e questa era la cosa che costava meno che ho trovato ovvero una fialetta alla vaniglia di pane angeli il resto costava tutto di più quindi ho comprato due fialette alla vaniglia di pane angeli vabbè però 58 centesimi questo mi ricorda a memoria 58 centesimi non male non male e ci possiamo fare un bel dolce eh facciamo un bel ciambellone alla vaniglia o una bella crema pasticcera alla vaniglia che ne pensate quindi vabbè alla fine mi potevano essere utili quindi l'ho comprato anche questo costava poco e soprattutto ero molto curiosa di assaggiarlo è un sandwich cioco bio mat mat della nutridolce o di mat non lo so pure questo costava pochissimo ma non mi ricordo quanto no forse neanche troppo poco ho visto quant'è vediamo dov'è ah no 89 centesimi poco un cavolo va bene comunque ho comprato un sandwich secondo me sono solo due gallette l'ultima cosa l'ultima cosa che cosa sarà quest'ultima cosa l'ultima cosa non ho resistito regà forse potevo comprare due cose non comprando questi ma io muore tanto male povero un brumalato e vabbè insomma potevo comprare due cose non comprando questi ma ora vi faccio vedere cosa sono e mi direte c'hai ragione Chiara come facevi a non comprarli ho comprato gli amaretti cioè quando l'ho visti perché il metodo che ho usato è questo ho preso amazon ho scritto cibo poi ho cominciato a scorrere e a vedere le cose che costavano un po' meno e a metterle nel carrello e a un certo punto però ho visto questi che effettivamente non costavano un po' meno cioè avrei potuto comprare forse due cose allo stesso prezzo ma cioè io li volevo troppo sono una di quelle cose che non mi compro mai al supermercato perché io se questi li apro me li mangio tutti mi piacciono tantissimo gli amaretti e infatti questi costano ah no costavano 1,19 euro ma là non potevo comprare due cose sto dicendo ma bagianata pensavo costassero 1,89 euro va bene questo è il bottino però io direi che questi li possiamo assaggiare no si magari sono buoni vi piacciono ve li potete comprare su amazon tanto la spedizione se ce l'avete prime è sempre gratuita amaretto mmm buonissimi troppo per croccantini super mandorlosi sono troppo buoni e mangio tutti alla fine ma chi sono io per non provare le tisane qua le assaggiamo vuoi per caso assaggiare una tisana ti fa bene stai male vuoi una tisana la nocciola Luca non collabora quindi ne dobbiamo assaggiare una sola di queste due io direi questa mi incuriosisce di più il fatto che sia la mandorla con nade di caramello quindi ora vado a farmi la tisana e torno così assaggiamo sia la tisana che il biscotto poi i filetti di sgombro e la pasta barilla la assaggiamo in un wiki vlog o questo no forse il prossimo non lo so vabbè comunque sia iscrivetevi al canale seguite i wiki vlog che escono tutte le domeniche e quando assaggio sta roba vi faccio sapere com'è nel wiki nel wiki vlog quindi ora mi vado a fare la tisana e ci vediamo tra pochissimo ok tisana preparata mentre passa un altro minutino perché deve stare in infusione 3-4 minuti allora super apprezzato il fatto che siano bustine singole perché c'ho sempre la para che ci vengono gli animaletti nel tè nelle tisane e quindi quando sono imbustati singolarmente anche se per l'ambiente forse non è la cosa migliore ma c'ho meno paranoia non lo so mi piacciono di più e poi mantengono di più il profumo allora quando l'ho aperta un profumo pazzesco e anche adesso c'ha un odore buonissimo e c'è scritto che si può consumare anche fredda tipo da frigo cioè tipo che è freddo perché c'è scritto che mantiene inalterate le caratteristiche vabbè insomma è buono o uguale va bene intanto che quello si infonde ma soprattutto se è fredda io direi di assaggiare anche questo come sarà vediamo sì è una galletta con scioccolato niente di più niente di meno ecco una galletta che si sta sparpagliando per tutto il salotto vai ci vuoi pulisci tu ok è veramente solo una galletta di riso cioè due gallette di riso poi mezzo cioccolato ah già è come se prendi due gallette di riso e ci metti in mezzo la nutella uguale pure un po' assalato no 89 centesimi no forse 50 ma forse proprio 9 dirò meglio le gallette quelle al cioccolato con il cioccolato sopra a parte sembra di mangiare polistirolo vabbè è quasi due ore di cena ma finisco domani a colazione allora passiamo al nostro tè come sarà come sarà che buono io non so voi ma amo tè e tisane l'inverno cioè proprio tantissimo però soprattutto queste dolci così tipo vaniglia mandorla queste cose qua odio quelle agli agrumi e non mi fanno impazzire i frutti rossi cioè tutte quelle acidine no quelle dolci tutte quella linea al cacao pazzesca vabbè questa non è male molto buona solo che ustiona quindi la prendiamo dopo allora tiriamo le somme di questa nuova serie non so se diventerà una serie però ho detto ero lì che non sapevo che fare stavo a guardare su Amazon e ho detto ma se compro tutte le cose che riesco con 10 euro boh 10 euro challenge perché tutti fanno queste 10 euro challenge che poi di solito fanno i 50 euro challenge ma ma mi vedi ma posso spendere 50 euro così a caso ma per favore quindi 10 euro mi sembrava un buon budget però devo dire che alla fine ci ho comprato tante cose perché allora quanti pezzi abbiamo comprato 3 4 5 6 7 8 pezzi 8 pezzi 10 euro e questo perché ho voluto strafare per assaggiare questa pasta barilla al bronzo che ci deluderà immensamente ma come ho detto lo vedremo in un wiki vlog salsa datterini e pasta al bronzo barilla che sarà come la pasta normale barilla ma va bene però devo dire che un po' di cose le abbiamo comprate ma che soprattutto ho comprato queste e queste sicuramente mi piaceranno entrambe ve faccio sapere pure com'è questa ecco se ho 89 centesimi mi potevo risparmiare ma poi alla fine ci sono loro che rendono tutto più bello e più dolce quindi va bene sarò male già lo so sono troppo buoni vi piacciono gli amaretti? credetelo nei commenti vabbè niente era per fare una cosa diversa veramente un video al giorno tutti i giorni sta diventando difficile ho detto prova una cosa nuova a modo mio no così tanto basta essere magna che prega quindi da questo video con un Luca malato sullo sfondo e dei cani che girano a casaccio è tutto e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao